Dagli attacchi del lupo da Levante a Ponente ai cinghiali, a spasso per i centri cittadini, dagli incidenti causati sulle strade provinciali fino alle razzie nei boschi di castagne e terreni coltivati dell'entroterra. Le continue incursioni della fauna selvatica mettono sempre più a rischio la sopravvivenza delle imprese agricole locali ormai esasperate, ma anche la salvaguardia del territorio, l'incolumità delle persone e la sicurezza stessa degli animali. Lo denuncia a Coldiretti Liguria nel constatare che le segnalazioni di attacchi da parte della fauna selvatica in Liguria non accennano ad arrestarsi e sempre più frequenti sono gli avvistamenti soprattutto diungulati nei centri abitati. E in questa stagione inoltre a preoccupare gli imprenditori di tutto il nostro entroterra ci sono le continue razzie da parte di cinghiali e caprioli nei boschi e nei terreni che rischiano di mandare all'aria la raccolta ottunnale di castagne e frutti di stagione. La popolazione degli animali selvatici affermano il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il delegato confederale Bruno Rivarossa, nell'interesse di tutta la società deve essere gestita in maniera consapevole e continuativa. Non bisogna dimenticare che comunque il settore agricolo rimane quello che ha subito gli attacchi più duri e che con le imprese colpite è in gioco l'economia di intere aree della regione nonché l'equilibrio del nostro territorio dove l'abbandono da parte delle imprese causerebbe danni incalcolabili al patrimonio ambientale e paesaggistico. Non bisogna dimenticare poi che ad essere a rischio sono ad oggi i castagneti che rappresentano il 30 per cento dell'interno territorio boschivo regionale. Come Coldiretti affermano Rivarossa e Boeri, da ottobre dell'anno scorso abbiamo presentato alla regione un decalogo con misure a nostro parere adatte per contrastare il fenomeno. Fra queste la necessità di intervenire per la semplificazione della legge regionale in materia di autotutela del fondo agricolo soprattutto in materia di limitazione all'accesso e all'ottenimento di regolare porto d'armi.